Il Parlamento dell'Unione Europea sta vicino alle vittime dell'orrendo attacco di terrorismo in Nigeria. L'Unione Europea deve stare al fianco dell'Africa mettendola in cima all'agenda, rafforzandola a cooperazioni sulla sicurezza, lo sviluppo e la lotta al terrorismo. L'ha detto il Presidente del Parlamento dell'Unione Europea Antonio Tajani in un tweet a seguito di quanto era accaduto in quel paese africano. Nella sua prima giornata di visita a Nigeria il Presidente del Parlamento Europeo Tajani, accanto a numerosi incontri istituzionali, ha incontrato anche i rifugiati evacuati dalla Libia. Non possiamo fermare le migrazioni, ha detto, quindi dobbiamo lavorare insieme africani ed europei per cercare soluzioni.